In questo momento in Italia sono oltre mezzo milione i nostri connazionali ammalati di covid. Sono i nuovi casi odierni, quasi 40.000 a far superare questa soglia significativa. In rialzo il tasso di positività dal 16 al 17%, le terapie intensive sono in sofferenza. Arriva la guida per i cittadini alle nuove norme. Cosa è permesso e cosa è vietato? Le risposte del governo e del Piminale ai dubbi su spostamenti, sport, lavoro e negozi. Vedremo come nelle zone del paese gli italiani si preparano a questo primo fine settimana tra chiusure e coprifuoco. Il decreto Ristori Bissa allarga la platea dei beneficiari. Nuovi aiuti a ristorazione, turismo e famiglia verso uno stanziamento pari a 2 miliardi. Negli Stati Uniti Joe Biden è presidente. Mancano ancora una manciata di voti da scurtinare, ma alcuni stati chiave si sono espressi per lo sfidante Dem. Trump annuncia ricorsi. Addio ad un fratello, nostro amico per sempre. I Poo salutano così Stefano Dorazio, storico batterista del gruppo. Aveva 72 anni e era malato da tempo, ma sono state le complicanze legate al Covid a portarlo via. Buonasera, questi i nostri titoli. Il virus, come avete sentito, continua la sua corsa e come vedremo tra poco abbatte nuovi record di contagio nel nostro paese. Ma cominciamo dalla notizia che da meno di un'ora sta facendo il giro del mondo. Il democratico Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti. L'assegnazione della Pennsylvania gli consente di raggiungere il numero di grandi elettori necessari a varcare la soglia della Casa Bianca. Scene di giubilo in molte parti del paese. Come vedete da queste immagini che ci arrivano in diretta dagli Stati Uniti, Biden, poco fa ha detto onorato dalla scelta degli americani, sarò il presidente di tutti. Ma Trump, in queste immagini vedete proprio i supporter del presidente uscente. Le elezioni, ha detto, non sono finite. Da lunedì parte la battaglia legale e ci racconta tutto. Antonio Soviero. Joe Biden stava trascorrendo la mattinata con la famiglia nella sua casa nel Delaware quando gli è stata data la notizia che secondo la CNN si era giudicato i 20 grandi elettori della Pennsylvania, stato in cui è nato, divenendo così il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Passano pochi minuti e anche Associated Press, NBC e Fox News scrivono che Biden è presidente con 273 grandi elettori, tre in più della soglia necessaria. Sono onorato della scelta degli americani, commenta a caldo il neocomandante in capo, che si rivolgerà questa sera alla nazione. Alla suo fianco molto probabilmente Kamala Harris, che diventa così la prima vicepresidente donna della storia del paese americano. Per quanto riguarda Biden, sarà il primo presidente di fede cattolica dopo John Kennedy, un dettaglio trascurato nella narrazione di queste burrascose elezioni. Donald Trump, dal canto suo, non concede la vittoria per il tycoon. Le elezioni non sono finite, alludendo ai ricorsi per presunti brogli che presenterà in tutti i tribunali. In attesa dei verdetti, che saranno comunque basati sulle prove, oggi ha parlato una componente della Commissione elettorale federale, secondo la quale non c'è alcuna prova che ci siano stati brogli o voti illegali. Ad ora, Joe Biden e Kamala Harris guideranno la nazione più potente della Terra per i prossimi quattro anni, avendo incassato più voti nella storia americana. Già quasi 75 milioni, mentre lo scrutinio è ancora in corso. E questa sera, dopo le 23, un approfondimento sulle elezioni americane con il nostro programma Today. Rientriamo in Italia con l'andamento dei contagi. Quasi 40.000 i casi positivi solo nelle ultime 24 ore. è sempre più forte la pressione sul sistema sanitario. Il quadro da Letizia Davoli. Oltre mezzo milioni di italiani al momento è positivo al Covid-19. Nel primo fine settimana di chiusura del paese, i numeri raccontano una pandemia in piena corsa. Oggi si registrano 39.811 contagi, nuovo record di sempre, contro i 37.809 di ieri. Ancora alti, sebbene in diminuzione i decessi 425 del 446 di 24 ore fa, stabile sopra i 231.000. Il numero di tamponi effettuati, ma il rapporto positivi tamponi sale al 17,22%. Più 119 ricoveri in terapia intensiva per un totale di 2.634. Sul fronte focolaico è da segnalare una nuova esplosione di casi all'interno dell'RSA. A Foggia tutti i 74 ospiti e 28 operatori di una residenza per anziani sono positivi al Covid-19. Tre anziani sono già morti. Coinvolte anche le parrocchie nel Ragusano. Otto sacerdoti sono positivi, quattro chiese sono state chiuse. Come previsto, l'impennata nei contagi ha messo in ginocchio molte strutture sanitarie. Al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli a Torino, i pazienti Covid-19 sono stati messi su barelle da campo dopo che quelle classiche erano finite in attesa di una visita o di una diagnosi. Convertita in reparto di decenza ordinaria, anche la chiesa dell'ospedale San Luigi di Orbassano, sempre a Torino, dove 135 brandine hanno preso il posto dei banchi per i fedeli dopo che lo stesso destino era toccato al centro convegni del nosocomio. Un caos che riflette una mancanza di programmazione nei mesi scorsi che ora pesa su salute pubblica ed economia. La ricerca delle responsabilità ha già fatto una vittima il commissario per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, che ha messo nell'intervista televisiva, tra le altre cose, di non sapere di dover fare un piano Covid. Il Premier Conte ha annunciato di volerlo rimuovere dopo averlo scelto per quel ruolo due anni fa. E andiamo ora in Lombardia, regione rossa, per sentire come sta andando il primo fine settimana di lockdown da Milano. Maurizio Dischino. Buonasera, seconda giornata di chiusura nella zona rossa della Lombardia. Una giornata segnata dai movimenti lievi, ma ci sono stati, ma soprattutto dai nuovi numeri dei contagi. Infatti in Lombardia 11.489 nuovi casi. Un dato significativo perché ieri erano 9.934 e all'inizio della settimana erano praticamente la metà. Solo nella provincia di Milano 4.529 casi, ieri 4.296 e anche lunedì erano la metà. Poi nella provincia di Monza-Brianza sono aumentati il doppio, 1.638 oggi, ieri 968, mentre nella città di Milano più o meno è rimasto come ieri, oggi 1.758, ieri 1.763. La città oggi di Milano è stata una città dove comunque i movimenti si sono visti. Certo non erano i movimenti dei pendolari, dei lavoratori come ieri, però ci sono stati i movimenti delle famiglie che escono al sabato per andare a correre insieme, per andare in bici insieme e anche per andare a fare compere, perché i negozi di fatto sono rimasti aperti, negozi come quelli di abbigliamento, le librerie, le profumerie, tanto per citarne alcuni. Una giovane mamma poco fa ci ha detto io preferirei le misure molto restrittive perché la salute non si compra. E poi ecco il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi ha detto al di là del tema controlli non si possono controllare 1.400.000 persone, il punto è che questa è una chiusura un po' anomala. E poi Sala ha detto io sto cercando di dire ai cittadini di stare in casa, di essere attenti, attraverso i nostri comportamenti virtuosi liberiamo gli ospedali, diamo modo di curare anche altre patologie. Queste sono le parole del sindaco di una città che comunque è caratterizzata da dei movimenti. Certo non è la città deserta come quella durante la prima ondata della pandemia. A quest'ora in via Pola dove ci troviamo in questo momento il traffico è praticamente affievolito, siamo sotto il palazzo della regione Lombardia, ma le luci della città continuano a rimanere accese. E da Milano restituisco la linea allo studio. E da Milano andiamo a Roma nella capitale dove Barbara Masulli ha raccolto le testimonianze di cittadini alle prese con le nuove chiusure. Sentiamo. Più o meno distanziati quasi tutti con la mascherina, nel primo sabato con le nuove misure restrittive i romani non rinunciano alla passeggiata in centro o a una chiacchierata con gli amici. Siamo in piazza Trilussa, uno dei punti d'incontro dei più giovani nel fine settimana. Qui solitamente i ragazzi tirano tardi, ma da stasera alle 22 tutti a casa. Beatrice ci racconta che non sta vivendo bene queste giornate. Ho 17 anni quindi vorrei uscire e non penso che aiuteranno molto queste misure, sono sincera. Però tocca seguire le regole. Tu e le tue amiche le uscite comunque le state limitando? Sì, in realtà sì. Durante la settimana non usciamo quasi mai e oggi siamo uscite per la prima volta da domenica. Ci spostiamo in un'altra zona della capitale molto frequentata nel fine settimana, Villa Panfili, uno dei parchi più grandi della città. Al bistro c'è addirittura la fila, altri hanno invece scelto di mangiare un panino sull'erba come Mauro e la sua famiglia. Noi veniamo spesso al parco, è l'unica cosa che ci concediamo in questo periodo di pericolo, tra virgolette. Siamo all'aria aperta, a distanza, con le mascherine. La giornata di domani come sarà? Si sveglia, ci prepariamo un pranzo a sacco o qualcosa, andiamo magari in un altro parco. Costello è rumeno, ma vive a Roma da 20 anni. Anche lui ha scelto di venire al parco con la moglie e il figlio David. Come fai a stare dentro casa, no? Che cosa pensa del fatto che il Lazio sia nella cosiddetta fascia gialla? Roma è preparata, diciamo, ci sono un sacco di ospedali. Lei viene dalla Romania, lì com'è la situazione? E critica là e poi non sono preparati come qua. C'è l'Italia per me tra i primi paesi al mondo che è come la sanità. E dal Lazio alla Campania dove la situazione è difficile soprattutto per gli anziani. Luigi Ferraiola. Il lungomare di Napoli o via Aniello Falcone, la strada degli aperitivi, come i navigli di Milano, fino a poco prima della quarantena di marzo. Senza blocchi la città si è riversata al sole tra via Partenope e via Caracciolo. Il governatore Di Luca aveva invitato i sindaci proprio ieri a chiudere centri storici o passeggiate al mare, dove era prevedibile le persone si sarebbero affollate. De Magistris non lo ha fatto, ma oggi ha lanciato un appello ai napoletani a non portare la città verso la zona rossa. Mascherine, distanziamento fisico, evitare assembramenti. Anche perché quando si vedono molte persone per strada e anche senza mascherine, oggi viene chiesto anche ai sindaci l'eventualità di chiudere determinate aree della città. Cosa che nelle grandi aree urbane, nelle grandi metropoli, nelle grandi città è quasi impossibile. Sono 4.309 i contagi delle ultime 24 ore con 15 vittime e 179 posti occupati in terapia intensiva su 590. Ma oltre all'emergenza assembramenti, che sembra inarrestabili a Napoli, la Campania sta soffrendo un'urgenza silenziosa. Sono sempre di più le residenze per anziani dove scoppiano fuocolai di contagio. L'ultimo è a Torre Annunziata, dove sono morti due orecchietti e tutti gli altri ospiti sono stati contagiati. Un caso analogo è accaduto a Volturara, in Irpinia, e il sindaco ha deciso di stabilire un lockdown per tutti gli abitanti sopra i 70 anni. Oltre il 40% della popolazione, l'unico modo per difenderli davvero, perché sono preziosi. Un paese che fino a qualche settimana fa era un paese covid free. A seguito dell'espansione del virus e a seguito di un fuocolai che si è sviluppato sul territorio in una RSA, paradossalmente questa ordinanza è rivolta più verso noi giovani, noi nipoti, noi figli. Infatti, quando noi andiamo a casa dei nostri anziani, dobbiamo rimanere a distanza di almeno due metri e indossare le mascherine. Non dobbiamo restare a pranzo o a cena con loro. Ricapitoliamo le nuove regole anche alla luce delle precisazioni sui comportamenti consentiti, diffuse oggi dal governo. Nicola Ferrante. I mercati in zona gialla sono sempre aperti, i nonni in zona arancione si possono andare a trovare, e ammessa in zona rossa si può andare. L'Italia ha tre colori e un guazzabuglio di domande, tanto che oggi il governo ha diramato alcune risposte ai quesiti più frequenti per fare chiarezza. A cui nel pomeriggio si aggiunge anche una circolare del Ministero dell'Interno. Capitolo spese in un comune diverso. Per chi vive in zona rossa o arancione si può fare solo se mancano punti vendita in quello di residenza. Capitolo nonni e nipoti, sia in zona rossa che arancione, spostamento ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori cioè sono impossibilitati a tenere i figli. Resta sempre fortemente sconsigliato, anche in zona gialla, perché gli anziani sono la categoria più esposta. Andare in chiesa è sempre consentito, ma in zona rossa è in quella più vicina a casa. Sugli spostamenti dei volontari, poi via libera in tutte le tre zone, il Viminale precisa che è consentito per giunta fra le 22 e le 5, sia per motivi medici che sociali. Vediamo poi alcune misure valide in tutta Italia, indipendentemente dal colore della zona. Assemblee condominali consentite ma consigliate a distanza, fiere e mercatini di Natale vietati, consentite le visite a parenti o amici non autosufficienti, nonché andare in auto con non conviventi, lasciando libero il posto vicino al guidatore. In merito a uscire con il proprio animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, la risposta, prevista anche per l'area gialla, non pone limiti orari e da ciò si deduce perciò che sia possibile sempre e ad ogni ora. La circolare del Viminale chiarisce infine che i mercati sono sempre chiusi nei prefestivi e festivi, sempre chiusi in zona rossa, mentre sia in quella arancione che gialla sono chiusi soltanto quelli al coperto. E così anche strade e piazze nei centri urbani potranno essere chiuse non più solo dalle 21, ma durante tutto l'arco della giornata in caso di affollamento. La circolare esprime infine ai cittadini come forte raccomandazione l'invito a non spostarsi perfino nelle zone e negli orari dove è consentito, pur precisando che trattandosi solo di una raccomandazione, eventuali spostamenti non dovranno essere né giustificati né sono passibili di sanzione. Il Governo ha approvato il decreto Ristori Bis dopo le nuove restrizioni in tutta Italia, prevede ulteriori misure per sostenere l'economia ed aiutare le persone colpite dalle chiusure stesse. Massimiliano Niccoli Aiuti raddoppiati per chi è stato costretto a chiudere e rinvio delle tasse dovute a novembre. Queste due delle misure contenute nel decreto Ristori Bis approvato nelle notte dal Consiglio dei Ministri. Ampliata la platea di chi riceverà i contributi. Alle 53 categorie già previste dal primo provvedimento se ne aggiungono altre. Avranno contributi al 100% i bus turistici e anche i trasporti lagunari, fotoreporter, chi fa corsi di danza, le lavanderie industriali, i negozi di bombonieri e traduttori, nonché i produttori di fuochi d'artificio. Al 200% arriveranno invece guide alpine, musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo. Incluse anche la ristorazione senza somministrazione, come rosticcerie e pizzerie al taglio e gli internet point che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate. Contributi raddoppiati rispetto al primo decreto anche per 57 altre categorie costrette alla chiusura perché in zona rossa. Previsti infine aiuti, oltre che per le partite IVA, anche per le famiglie con i figli a casa già alle medie, con la possibilità di prendere il congedo al 50% o di utilizzare altri 1000 euro di bonus babysitter. Novità importanti proprio nelle ore in cui stanno arrivando i primi bonifici per i sussidi previsti dal primo decreto. In tutto più di 200 milioni di euro. Non ci sono del resto alternative, ha spiegato oggi il premier Conte. Senza queste chiusure mirate, ha ribadito, si va a sbattere. Maria Luisa Pellizzari è la prima vice capodonna della Polizia di Stato. Originaria di Montagnana, nel Padovano, laureata in giurisprudenza con una tesi sui pentimenti di mafia, è stata nominata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Lamorgese dal capo della Polizia, Gabrielli. Da 35 anni ha nel corpo, buona parte dei quali dedicati a combattere la criminalità organizzata. È stata anche la prima donna, e per il momento l'unica, a dirigere il Servizio Centrale Operativo Eccellenza Investigativa nella lotta alla mafia. Il governo centrale dell'Etiopia, ci spostiamo in Africa, dopo l'intervento armato, istituisce un'amministrazione provvisoria nel Tigre, la regione ribelle. Marco Burini Un Nobel per la pace che fa la guerra non è il massimo, anche se è successo più volte. Stavolta tocca ad Abiy Ahmed, il presidente dell'Etiopia, che l'anno scorso di questi tempi vinse il premio e in questi giorni ha ordinato un'offensiva militare nel Tigre. La più a nord delle nove regioni che compongono uno dei paesi africani più grandi, oltre 100 milioni di abitanti. Era da mesi che il governo centrale di Addis Abeba e quello locale di Macallè si scontravano a livello politico e verbale. Nel Tigre si trova la maggior parte degli armamenti dell'esercito etiope, dato che la regione confina con l'Eritrea, con cui Abiy, nell'estate del 2018, ha firmato la pace dopo 18 anni di guerra. Alla TV di Stato Abiy ha parlato di un'operazione a vasto raggio per liberare il Tigre dal partito al potere. Operazione già costata la vita a molte persone. Questo è solo l'ultimo guaio di Abiy, accusato di metodi autoritari e di aver rinviato le elezioni previste in agosto. C'è stato il virus di mezzo, ma per i suoi oppositori era un pretesto per restare al potere. Quello che per molti anni il fronte di liberazione del Tigre aveva esercitato su tutta l'Etiopia, malgrado i tigrini, siano solo il 6% della popolazione. Abiy è di etnia o romo, la più diffusa e a lungo esclusa dai posti di comando, ma appena eletto il Presidente aveva lavorato per superare i conflitti etnici. Adesso però le cose rischiano di precipitare, coinvolgendo tutto il corno d'Africa, da sempre affamato e in guerra. La pandemia nel mondo, Stati Uniti sempre il paese più colpito, oltre 12 milioni di contagi solo in Europa. A tremare soprattutto la Francia, con ospedali al collasso ed un ricovero ogni 30 secondi. Federico Plotti. Ancora record di contagi negli Stati Uniti, il paese più colpito dal coronavirus. Oltre 120 mila nelle ultime 24 ore, quasi 10 milioni dall'inizio della pandemia. Ma anche l'Europa resta assediata dal virus, dove fino ad oggi sono state infettate circa 12 milioni di persone. La situazione più preoccupante ancora in Francia, che ormai viaggia ad una media di oltre 60 mila nuovi positivi al giorno. E questo nonostante da oltre una settimana sia entrato in vigore il lockdown. Preoccupa in particolare la situazione negli ospedali di tutto il paese, dove per Covid viene ricoverato un paziente ogni 30 secondi. Sull'orlo del collasso le terapie intensive. Per liberare posti, diversi pazienti cominciano ad essere trasferiti altrove, soprattutto nelle strutture ospedaliere della Germania. Una seconda ondata di contagi che in Europa non risparmia nessuno. Dal Belgio alla Repubblica Ceca, i paesi in cui l'incidenza dell'epidemia in rapporto alla popolazione è la più alta. Dalla Spagna alla stessa Germania, che anche ieri ha fatto registrare oltre 20 mila contagi, fino alla Gran Bretagna, dove da marzo oltre un milione e centomila persone hanno avuto a che fare con il Covid. Da oggi scatta il lockdown in tutta la Grecia e uno parziale in Polonia. Ieri tutti e 15 distretti dell'Austria sono stati dichiarati zona rossa. Ritorniamo in Lombardia. Codogno riparte Radio Zona Rossa. Come durante il primo lockdown, la radio parrocchiale si riattiva per essere vicina alla comunità locale. Buongiorno, ben sintonizzati sul 10350 di Radio Codogno. Radio Zona Rossa è tornata su Radio Codogno. Da martedì 3 novembre, infatti, l'emittente della parrocchia di San Biagio, nata nel 1983, ha riaperto una finestra per essere al servizio della comunità in questa nuova chiusura anti-Covid. Codogno, in provincia di Lodi, in Lombardia, è la città dove la sera del 20 febbraio scorso è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia. Nella prima ondata della pandemia di coronavirus, la storica voce di Pino Pagani e di altri volontari hanno riempito lo spazio Radio Zona Rossa per informare su aperture, disposizioni e contatti durante l'emergenza. Lo spazio è stato riaperto e conferma l'identità comunitaria della radio. È una radio prettamente locale, quindi di conseguenza a noi interessa gli ambienti locali, non solo, ma i discorsi locali. Ma quando arriva la normativa da parte della regione o della provincia o dello Stato, la si ambienta, la si aggiorna. In città la gente adesso ha esperienza nel gestire le misure anti-contagio e si permette qualche movimento in più nonostante siano in zona rossa. Ma la memoria torna sempre agli oltre 250 morti della scorsa primavera. Adesso c'è qualche, diciamo, positivo, ma non numeri elevati e quasi nessuno ricoverato in ospedale. E l'animo è anche più sollevato, direi, più sereno. Don Iginio dal 2015 è parroco delle quattro parrocchie di Codogna, abitata da 16.000 persone. La radio contribuisce non poco ad essere una presenza avvertita anche da chi non può muoversi. Non tanto per il fatto di dare quanti morti, quanti non morti, quanti aggrediti dal Covid, e roba del genere. E la gente vuol sentire, vuol sapere, al di là dei numeri. Sono stabili i parametri vitali del cardinale Gualtiero Bassetti, ancora ricoverato all'ospedale di Perugia dopo essere risultato positivo al Covid. lo riferisce l'azienda ospedaliera nel bollettino medico giornaliero spiegando che il paziente, vigile e collaborante continuano l'ossigenoterapia e la ventilazione non invasiva unità alle terapie mediche del caso. Il QAM Medici con l'Africa celebra i 70 anni di attività. Si tratta della prima organizzazione non governativa italiana impegnata nella promozione nella tutela della salute delle popolazioni africane. Francesco Durante. È iniziata a Padova nel 1950 l'avventura dell'ONG Medici con l'Africa QAM, una onlus che porta cure e servizi sanitari in 43 paesi grazie all'impegno di oltre 2000 operatori. Celebrare 70 anni è ribadire l'impegno forte di continuare la missione che ci sono dati, quella in particolare di essere vicine alle mamme e bambini nei paesi più poveri del mondo, sono quelli dell'Africa sussariana, penso al Sud Sudan con una ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, la Repubblica Centrafricana con quattro pediatri in tutto il paese. Ecco, ribadire il mandato che abbiamo, quello di essere con queste persone nell'ultimo miglio di quel sistema sanitario così fragile e così debole. Un impegno che continua senza sosta anche tra le nuove problematiche determinate dalla pandemia. La copertura vaccinale sta crollando perché la gente ha paura, perché non viene sotto l'albero a fare le vaccinazioni, perché è un assembramento, i bambini manutriti che perdiamo, i pazienti cronici, HIV, tubercolosi, diabete, quindi il virus sta esplodendo le debolezze sanitarie e sta amplificando, aumentando gli estremamente poveri. E domani alle 23 su TV 2000 va in onda l'ultimo miglio 70 anni del QAM in Africa, il documentario di TV 2000 curato da Caterina Dall'Olio. Un racconto per scoprire cosa anima e motiva una storia iniziata, come avete sentito, nel 1950 per iniziativa del professor Canova e del vescovo di Padova, Monsignor Bortignot, per andare alle radici di un albero che ha dato tanti frutti coinvolgendo quella parte dell'Italia che ancora ha il coraggio di lasciare tutto per mettersi al servizio del prossimo. Abbiamo perso un fratello, così ieri sera allo storico gruppo dei Pù ha annunciato la scomparsa del batterista Stefano Dorazio il servizio di Silvio Vitelli. Un batterista d'eccezione con la peculiarità della doppia gran cassa ma anche un fine paroliere suoi testi di questa cercando di te dimmi di sì la donna del mio amico e molte altre. Ma non finisce qui perché Stefano Dorazio dalla sua aveva anche una rara mentalità imprenditoriale messa a disposizione dei Pù per i quali per dirla alla Red Ronny era un po' come Ringo Starr per i Beatles faceva sfogliatoio e teneva unita la band. Quella band nella quale entrò nel 71 nonostante il suo look fosse troppo trasgressivo ma la soluzione arrivò in un attimo. Mi portarono da un parrucchiere in via del Gandaro mi misero di spalle allo specchio dice andiamo giusto una sessiamata poi vediamo io senti sfordicicchiare qua e là poi mi girarono a favore di specchio e io mi vidi in questa dimensione da una parte avevo il capello liscio porto fin qua sembravo Raffaella Carrà dall'altra parte questo montarozzo di Cespugli 40 anni di carriera con i Poo prima di virare con successo nel mondo dei musical gli altri componenti della band si dicono devastati dal dolore e rammaricati per non aver potuto essergli vicino negli ultimi giorni alla sua malattia infatti si è raggiunta la positività al covid che gli è stata fatale non riusciva a trattenere le lacrime davanti alla prima ondata della pandemia e si era attivato in prima persona con Rinascerò Rinascerai dedicata a Bergamo al cui ospedale aveva donato testo e proventi della canzone un momento di pausa ci vediamo tra poco e torniamo alla notizia di apertura Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti in una nota ha scritto poco fa è tempo per l'America di unirsi e di guarire noi siamo gli Stati Uniti d'America e non c'è niente che non possiamo fare se lo facciamo assieme Biden terrà il suo discorso della vittoria alle 20 ore locale le 2 del mattino in Italia a Wilmington nel Delaware stato ovviamente della costa est il TG2000 torna alle 20.30 vi ricordo l'appuntamento con il meteo subito dopo la messa dal santuario di Colle Valenza restate con noi buona serata che c'è un'unitio che c'è un'unitio che c'è un'unitio